Una giornata di festa aperta a tutti, una food experience straordinaria, un momento di crescita lavorativa e importante per i ragazzi con autismo. Questo è Workout, consapevolezza delle abilità e delle diversità, l'evento organizzato dal centro di riabilitazione CSR di Modica ieri mattina nei locali dell'associazione. Workout è un evento finalizzato alla promozione delle diverse abilità su cui quotidianamente si lavorano i centri di riabilitazione del consorzio nel rispetto delle singole diversità che caratterizzano ogni persona. Questa giornata oggi la celebriamo qui alla sede modicana del CSR, una rete di associazione e di enti per dare consapevolezza a questa patologia comportamentale, diversi gli aspetti di questa patologia, tant'è vero che si parla di spettro autistico. C'è il comune di Modica che patrocinia l'evento perché ci siamo 365 giorni d'anno accanto non soltanto dei pazienti ma anche delle famiglie. Questa giornata è la nostra terza giornata, due anni fa l'abbiamo fatta a Pozzallo, l'anno scorso a Comiso e quest'anno Modica dove abbiamo messo workout. I ragazzi nostri si sono messi alla prova, stanno offrendo a tutti hot dog, panini, pizze, zucchero filato e popcorn. Ovviamente sono stati preparati abbondantemente già da circa un anno perché all'interno dei nostri centri fanno questo, cioè li stiamo cercando di addestrare per domani un inserimento lavorativo almeno per quelli che possono. Oggi è workout, ieri vedevo da Maraveniere parlare di pizza out e quindi penso che siamo anche un po' avanti rispetto a tutto il territorio. Grazie a tutti.